Eccoci qua ragazzi, siamo a vedere come sta proseguendo il palco per il Giova. Sapete che oggi è giovedì 14, venerdì, sabato, domenica 17, domenica 17 suonerà qua. Vedete che stanno facendo tutte le varie cavolate lì. Vedete? All'ippodromo di Villanova. Adesso comunque sono solo ferri, non si vede altro che ferri, quindi vedremo poi più avanti. Grazie.